Controlli del nucleo antisofisticazioni dei carabinieri nel Nisseno, chiuso un'industria conserviera sprovvista di autorizzazione allo scarico. Elezioni, tracollo provinciale della Lega, Oscar Aiello, il partito deve cambiare rotta. Caso Tomaselli, Nissa Rugby, stadio non omologabile, rischiamo l'esclusione dal campionato di Serie C. Rinnovabili, la regione finanzia 301 comuni per la costituzione delle comunità energetiche. C'è anche Caltanissetta. Carta a Caltanissetta, fervono i preparativi per il trofeo regionale. Disposta dal sindaco di Niscemi la sospensione dell'attività di un'azienda attiva nel settore delle conserve alimentari, con il titolare dello stabilimento che si è visto infliggere anche una multa di 12.000 euro. Un provvedimento arrivato a seguito di un controllo dei carabinieri del nucleo antisofisticazione di Ragusa, i quali hanno accertato che l'industria niscemese lavorava in assenza dell'autorizzazione necessaria per lo scarico dei reflui di tipo domestico e dell'impianto di depurazione provenienti dal ciclo lavorazione dei prodotti agroalimentari, particolari che per gli investigatori costituiscono di fatto delle gravi violazioni in materia ambientale. La legge prevede che gli stabilimenti, per evitare l'insorgere di danni ambientali, abbiano precisi requisiti per ottenere le necessarie autorizzazioni in tema di vigilanza sui limiti degli scarichi inquinanti. Si rivolge alla stampa il capogruppo della Lega a Palazzo del Carbine, Oscar Aiello, e lo fa partendo da una dichiarazione in cui dice che è necessario un cambio di passo rispetto ai risultati della ultima chiamata alle urne dei cittadini, che lui definisce come un vero e proprio tracollo. Dei dati che hanno visto il partito di Salvini con risultati negativi sul territorio nisseno, secondo il capogruppo, serviranno per approdare ad una nuova fase con un cambio di passo. Nonostante l'esito negativo delle elezioni che ha visto la Lega in provincia di Caltanissetta ultima nella coalizione centrodestra e ultima in Sicilia per percentuale, voglio comunque essere positivo e propositivo, suggerendo al partito una nuova fase di aprirsi all'associazionismo, al civismo, di ritornare di nuovo tra la gente per riconquistare il rapporto col territorio, con gli iscritti simpatizzanti militanti che vanno considerati non solo in campagna elettorale, ma nemmeno questo è venuto, ma anche nella normalità. Per cui mi farò promotore come gruppo consigliare, come capogruppo della Lega del Consiglio Comune di Caltanissetta, di iniziative per avviare una nuova fase e per riprendere quel contatto con i cittadini, con gli elettori che purtroppo abbiamo perso e che prima portavano a risultati positivi. Si vivono ore di grande tensione in casa DLF Nista Rugby, che al suo quindicesimo anno di età rischia di non poter prendere parte ai campionati federali. La prima tegola si è abbattuta con il rinvio d'ufficio da parte della federazione della prima giornata del campionato di Serie C, a cui partecipa la società presieduta da Giuseppe Lo Celso. Lo stadio di Caltanissetta e il Marco Tomaselli allo stato attuale non è omologabile. Se non si dovesse intervenire tempestivamente per porre rimedio al problema, la società nissena della palla ovale sarebbe estromessa dal campionato regionale. Una situazione incresciosa quella del Tomaselli se non dovesse essere sanata e se la DLF Nista Rugby dovrebbe rinunciare completamente all'attività che sembra attualmente non avere una fine. Abbiamo contattato in merito l'assessore Fabio Caracausi che ci ha detto che si sta lavorando al meglio affinché la situazione e soprattutto lo sport esca vincitore da questa vicenda e si sta lavorando con entrambe le federazioni. 20.000 euro a Caltanissetta per realizzare i progetti e costituire tre comunità energetiche. I fondi stanziati della regione finanzieranno 301 comuni, incluso quello nisseno, per traguardare l'obiettivo delle comunità energetiche. Così l'assessorato regionale delle energie e dei servizi di pubblica utilità al Dipartimento dell'Energia ha coinvolto i comuni della regione che hanno aderito per sviluppare progetti che consentano la costituzione di almeno due comunità per territorio. Tra i capoluoghi di provincia e i contributi più alti sono stati assegnati alle città di Palermo per 63.398 euro e di Messina per 33.196 euro. A seguire Siracusa con 27.804 euro e Ragusa con 22.730 euro. A Caltanissetta vanno 20.867 euro. Ad Agrigento 20.228 e Enna 15.017 euro. Un elenco di comuni ammessi pubblicato con decreto dopo l'approvazione delle istanze che è consultabile sul portale istituzionale della regione siciliana. I comuni ammessi alle agevolazioni potranno ottenere dal Dipartimento dell'Energia un'anticipazione del 40% del contributo totale e l'amministrazione regionale accompagnerà gli enti locali nelle diverse fasi del processo fino alla costituzione della comunità. Abbiamo presentato la nostra richiesta per avere un finanziamento per la progettazione di tre comunità energetiche sul nostro territorio che ci è stato accordato. Abbiamo avuto un finanziamento di circa 20.000 euro che serviranno per redigere i progetti per la costituzione delle comunità energetiche a Caltanissetta. È una cosa molto importante perché soprattutto in questo momento in cui la problematica dell'energia comincia a diventare così importante e diffusa anche tra la gente comune queste attività sono fondamentali per aiutare a risolvere, seppur anche parzialmente, però sono dei passi importanti per risolvere il problema energetico anche della nostra città. Una volta pubblicato il decreto di finanziamento, il comune adesso potrà richiedere l'anticipazione del 40%, costituire e predisporre gli atti per la costituzione della comunità energetica che dovrà essere approvato in Consiglio Comunale. Sarà emesso un apposito bando, una manifestazione di interesse per chiedere ai cittadini che vorranno partecipare alla comunità energetica e quindi di conseguenza avviare i veri e propri lavori per poterla realizzare. Lunedì 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale. Le strutture sanitarie nissene aprono le porte ai cittadini di tutta l'età per consulti al Dipartimento di Salute Mentale di Via Chiarandà e per le donne all'ospedale Sant'Elia. Oltre all'installazione di tre Infopoint che saranno operativi fin dalla mattina di lunedì al piano terra sempre dell'ospedale Sant'Elia, in Piazza Falcone e Borsellino e al Parco Dubini. Tra gli eventi a corredo anche la serata musicale in un locale di Via Rosso di San Secondo a partire dalle 20 di martedì 11 ottobre. La giornata della salute mentale rappresenterà dunque un momento ulteriore di apertura alle persone che ritengono di avere bisogno di un aiuto esterno di tipo psicologico-psichiatrico e anche un'occasione di sensibilizzazione verso chi vede la necessità di un supporto come qualcosa che lo qualifichi come diverso, come non normale. Aspetti questi ultimi che purtroppo sono dettati da ignoranze e pregiudizi di una società che spesso si limita solo alla superficialità e all'esteriore. Ai nostri microfoni il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Caltanissetta, Massimo Cacciola. Il Dipartimento di Salute Mentale, in occasione della giornata mondiale della salute mentale, aprirà le proprie porte di servizio ai cittadini di Caltanissetta affinché tutti possano liberamente venire a vedere come funziona un Dipartimento di Salute Mentale e in occasione della visita che potranno fare capire a che compito è preposto il Dipartimento. Il Dipartimento è preposto al compito di ascoltare l'altro, l'altro che soffre, l'altro che ha bisogno ed aiutarlo a comprendere la natura della propria sofferenza, che alcune volte è intrapsichica, alcune volte è sociale, alcune volte è anche familiare. E questo livello di comprensione è il passo iniziale per indicare la strada per uscire dal disagio, per curare, prendersi cura del disagio personale, familiare e anche sociale. Ovviamente questo è possibile farlo a tre livelli del Dipartimento, la salute infantile, la salute degli adolescenti, la salute mentale degli adulti e anche per quanto riguarda il campo delle dipendenze, le dipendenze che non sono più soltanto le dipendenze da sostanze, ma anche le dipendenze comportamentali. L'obiettivo altro del Dipartimento di salute mentale con questa giornata sarà quello di aiutare tutti i cittadini a liberarsi dallo stigma della patologia mentale e liberarsi anche dall'isolamento nel quale molte volte sono ricacciati, dall'ambiente nel quale vivono, dalle famiglie nelle quali abitano e nelle città che non sempre sono disposte ad accoglierli. Negli ultimi anni il Milan Club di Caltanissetta di Via Gorizzi è diventato un punto di riferimento per tanti tifosi rossoneri e il direttivo, rinnovato nei giorni scorsi, mira a coinvolgere ancora più persone legate dall'amore per il calcio e per la squadra allenata attualmente da Stefano Pioli. Intendi chiari che il riconfermato presidente del Milan Club, Carmelo Milazzo, ha delineato nel corso dell'ultima assemblea dei soci che ha sancito la sua riconferma al vertice. Ad affiancarlo saranno il vicepresidente Rosario Giuliana, storico tifoso rossonero, il segretario tesoriere Giorgio Cantella, i componenti del direttivo Calogero Amico, Rocco Pesce, Rino Carlino, Angelo Foderà, Andrea Andolina, Marcello Dell'Aira e Giancarlo Palmeri. L'aggregazione tra i componenti del club passerà non solo da iniziative locali, ma anche dalla partecipazione alle gare casalinghe e anche alle trasferte del Milan. In varie occasioni lo striscione del Milan Club Caltanissette è apparso sulle tribune dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro e la scorsa primavera ha campeggiato pure sul palco allestito in piazza Garibaldi in occasione della vittoria dello scudetto milanista. Ai nostri microfoni il presidente del Milan Club Carmelo Milazzo e il componente del direttivo Rino Carlino. Il Milan Club nasce parecchi anni fa, per volere mio, di Rosario Giuliana, il dottore Di Benedetto, Giancarlo Palmeri. Siamo riuniti e abbiamo deciso di fondare il Milan Club. Peraltro l'abbiamo fondato in un periodo dove il Milan non andava per niente bene, dove ogni partita era un'agonia. Ma essendo tifosi abbiamo sempre creduto in questa nostra iniziativa, tant'è che oggi il nostro Milan Club ha circa 70 associati. Facciamo tantissima attività, soprattutto sociale, nel vedersi le partite, quindi è un motivo anche per stare tutti insieme. Facciamo anche delle cene sociali con le famiglie, quindi è anche un motivo di coinvolgere tutti quelli che ci stanno vicino. E soprattutto è quello di andare a vedere le partite in trasferta. Abbiamo una bella realtà, voglio parlare di questo. Spero che anche dopo questo intervento vostro della vostra televisione, che molti si avvicinino, magari per chiedere, magari per la curiosità. Poi il nostro intendimento è questo. È un ambiente sano, un ambiente amicale, lo chiamo io. Però avviciniamoci e tifiamo per questa grande squadra, a prescindere dai risultati, che poi vengono i risultati e verranno. Nell'atrio di Palazzo del Carmine si è tenuta la conferenza sulla quinta gara trofeo regionale a livello nazionale di kart, che si terrà sabato 8 e domenica 9 ottobre. Alla presenza del vice sindaco Grazia Giammusso e dell'assessore allo sport Fabio Caracausi sono intervenuti piloti e organizzatori della gara, che partirà da Via Salvo d'Acquisto e che toccherà le vie Aldomoro, Via Palmiro-Togliatti e per finire, antistante alla scuola Don Milani, dove saranno allestiti i box. Ci saranno 80 piloti, divisi in diverse categorie di età e di gara, dove si daranno battaglia nel circuito che misura 835 metri e che è stato definito la piccola Monte Carlo. Ho partecipato a tante gare di campionato regionale, vincendo anche dei titoli, a gare di campionato nazionali. Oggi sono il titolare di una scuderia, la S-Russo Motorsport, gestisco un KZ Karting Team, cioè vuol dire seguo ragazzi, tra virgolette, adulti dai 18 in su. La gara sarà... si inizierà il sabato, il sabato pomeriggio con delle prove libere, avremo due turni e la domenica avremo un altro turno di allenamento, le qualifiche che comparranno lo schieramento di partenza. Dopo le 14 ci sarà il Via. Spero la gente possa divertirsi, sarà un evento spettacolare e soprattutto sicuro. Il percorso è un percorso molto tecnico, si svolgerà attorno alla parrocchia di San Paolo, tra Via Aldomoro, Via Togliatti, Via Domminzoni e Via Salvo d'Acquisto. Il percorso è un percorso molto tecnico, con delle varianti importanti in salita, con delle sciganne che serviranno anche per smorzare la velocità dei diretti lini. Insomma, abbastanza intrigante, come diceva qualcuno dei partecipanti qui alla conferenza stampa dei piloti, che saranno i veri protagonisti. Che dire, una nota tecnica la voglio dare ai residenti del quartiere, avranno possibilità di poter entrare e uscire liberamente dalle loro abitazioni, nei momenti in cui ci saranno i barchi aperti tra una prova e l'altra, quindi una durata di 8-9 minuti, avranno possibilità di poter continuare regolarmente la loro giornata, sia di lavoro che anche di svago. Per quello che riguarda invece la parte più sportiva, insomma, un bocca al lupo ai nostri team, ai nostri piloti sportivi nisseni, che comunque sicuramente battaglieranno alla grande, sperando di conquistare i primi piazzamenti del podio. Archiviata la sconfitta di La Mezzia, la San Cataldese si appresta ad affrontare la prossima partita per la quinta giornata del Gironei di Serie D. I Verdi Amaranto giocheranno domenica alle ore 15 tra le mura amiche del Valentino Mazzola contro la Cireale. Un avversario blasonato che banta trascorsi anche in Serie B, che punta a un campionato di vertice. Gara non facile per la squadra di Matteo Vullo, che alla Mezzia, contro la prima della classe, ha comunque dimostrato carattere e personalità. Il quadro degli incontri in programma. Catania-Castrovillari, Trapani-Cittanova, Licata-Locri, Santa Maria-Canicattì, Ragusa-Sant'Agata, Real-Aversa-La Mezzia, San Luca-Paternò, San Cataldese-Acireale, Vibonese-Mariglianese. In eccellenza, domenica alle 15.30, la Nissa sarà impegnata a Favara dopo la prima vittoria stagionale in casa con la Parmonval. Negli ultimi giorni, dopo l'esonero dell'allenatore Tudisco, alla Pro Favara è arrivato un nuovo tecnico, è Gaetano Catalano, che commenta così sulla pagina Facebook Grigentina il prossimo impegno contro la formazione biancoscudata. La Nissa ha cambiato una settimana fa l'allenatore e le persone che conosco, conosco anche abbastanza bene. È una squadra tosta, una squadra che ha cambiato anche il modulo da 4-3, è passata al 3-5-2. Insomma, sicuramente dopo la vittoria domenica con il 4-0, ha preso di nuovo quell'entusiasmo che la porta magari a venire qua con un piglio diverso. Invece noi dobbiamo stare veramente pronti, attenti, perché il passato è passato, bisogna cambiare un po' pagina e bisogna cambiare anche quello che è il nostro opinione di marcia. Intanto mi fa piacere di essere qua in questa società importante, perché non vuol dire essere a porta nei bilettanti, però è una società abbastanza pronta, preparata, gente qualificata e professionista. Io credo che chiedo ai tifosi di starci vicino, perché secondo me piano piano possiamo togliere le soddisfazioni. Il quadro completo delle partite della quinta giornata Cus Palermo, Don Carlo, Castellammare, Leon Fortese, Parmonval, Casteldaccia, Acragas, Oratorio Marineo, Enna, Sciacca, Gela, Resuttana, Profavara, Nissa, Mazzarese, Mazzara. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre presioni per la giornata di venerdì, che ancora vedrà alta pressione bene o male sul Mediterraneo e su Italia, una debole zona di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale spinge qualche annuvolamento verso la Sardegna, ma in generale ancora tempo bello in gran parte del paese. Controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia, vediamo qualche nuvola appunto sul Mediterraneo occidentale che si avvicina alla Sardegna e poi delle velature che transiteranno al centro-sud ma davvero senza particolari conseguenze. Precipitazioni praticamente quasi del tutto assenti nel nostro paese, le nubi sul Mediterraneo occidentale ripeto per il momento si avvicinano solo alla Sardegna, quindi ben poco da segnalare. Insomma in definitiva ci attende l'ennesima giornata di tempo bello, con sì abbiamo visto qualche velatura in transito al centro-sud, poi a fine giornata qualche nuvole in più in Sardegna, al mattino presto un po' di umidità in pianura padana, quindi nuvole basse e foschia, per il resto gran sole e temperature sempre molto miti, 25-26 gradi di massima. Per sapere poi come andranno le cose nel weekend dalle vostre parti, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. a Giarratana.